ben ritrovati a tutti e a tutti a questa terza parte del corso di presentazione della shell fish cosa affrontiamo in questa terza parte affrontiamo una panoramica generica di sulle particolarità e specificità di questa shell ovvero come dico qui più o meno in ordine sparso vediamo alcune caratteristiche così prese raccolte durante l'uso che ho fatto personalmente di questa shell man mano mi tenevo nota di alcune particolarità che trovavo o nella documentazione o appunto che riscontravo nell'uso personale quotidiano di questa shell allora partiamo subito con i primi punti ce ne sono in questa scaletta di più o meno impegnativi impegnativi più da spiegare che in realtà da applicare nella pratica un po come sempre allora non si possono definire costanti quindi variabili in sola lettura questo non è che sia un gran discapito è diciamo così prendiamo atto che la shell fish non prevede un tipo di variabile che ha ruolo di costante ovvero in sola lettura ovvero una variabile definita come costante vuol dire che la si imposta una volta con un suo valore e poi nel seguito dello script per esempio non può essere modificato quel valore ma soltanto utilizzato soltanto letto ecco in in linguaggi in altri linguaggi di programmazione la costante è un oggetto specifico viene proprio definito costante quindi non variabile ecco qui ho messo tra parenti variabile in sola lettura ma un po come dire un paradosso chiamare una costante una variabile insomma abbiamo capito cosa voglio intendere ecco non è una variabile ma è una costante quindi è un oggetto al quale possiamo dare un nome e al quale possiamo assegnare un valore ma poi non modificarlo in seguito perché appunto è definito come costante in fish questo non esiste dico non è un gran discapito o uno svantaggio è solo un'informazione di cui prendere atto perché ovviamente una costante si può facilmente simulare diciamo in uno script creiamo la nostra variabile set variabile spazio 150 e se poi per il resto dello script continuiamo solo ad utilizzarla ma non più modificarla ecco che indirettamente è quella variabile è diventata assunto al ruolo di una costante quindi niente di che solo da sapere giusto pura informazione i commenti ecco negli script i commenti come esattamente come in bash usano il simbolo del dash cancelletto diesis chiamatelo come volete questo simbolo sulla vostra tastiera questo con le due barrette incrociate verticali orizzontali stesso simbolo per i commenti poi andiamo avanti usando fish interattivamente ecco questo in parte l'abbiamo abbiamo già avuto modo di intravederlo nei video precedenti fish come detto è una shell orientata all'interattività all'uso interattivo di conseguenza fornisce anche un determinato livello alto di comfort nell'uso interattivo fra le varie comodità ecco ce ne sono alcune degni di nota che delle quali ho preso appunto nota scusate il gioco di parole nella mia scaletta fra le quali appunto l'indentazione automatica dei comandi composti questo l'abbiamo già visto nel video precedente per esempio un ciclo for o un if una decisione if una definizione di una funzione di un blocco di codice mentre lo scriviamo interattivamente fish ha un meccanismo che indenta il codice ovvero indentare il codice vuol dire creare degli spazi mandare le righe di codice più verso destra alcune tenerle più verso sinistra in modo da dare una certa struttura più facilmente leggibili al codice ecco se noi riprendiamo il ciclo for che abbiamo creato credo ecco qua questo qui che abbiamo creato nel video precedente vedete che ho scritto for con la sua condizione di ciclo di loop e poi la seconda riga ecco una stampa video di un valore è stato indentato vero questo spazio che c'è tra la linea della f di for questo spazio questo tabulatore è cosiddetta indentazione ecco qui io potrei proseguire a scrivere altri comandi vedete che appena tocco il comando l'indentazione diventa attiva qui adesso io vado sempre con questo comando semplicissimo è eco seconda riga vedete che è indentato appena indico la fine del comando composto vedete che l'end che definisce la chiusura del ciclo for viene indentato a sua volta riportandolo verso sinistra ecco questo è automatico nella nell'uso interattivo della shellfish ecco ovviamente questa indentazione automatica non sussiste quando scrivete in un editor di testo il vostro scrivete come dire essere disciplinati voi se volete rendere ordinato in questo modo il il vostro codice se usate interattivamente l'avete già regalata questa funzionalità poi il posizionamento capo automatico guadagnando spazio del prompt quando il comando è troppo lunga questo è veramente un dettaglio di utilizzo di cui mi sono accorto di cui mi sono accorto e ve lo mostro volentieri anche se può sembrare un dettaglio però insomma un dettaglio che ha la sua importanza ecco io qua ho creato un comando qualsiasi lungo apposta per dimostrarvi questa funzionalità non guardate cosa fa il comando in quanto tale perché ha poco senso vediamo un po se qui riesco magari a copiarlo no ecco lo scrivo così vi mostro cosa succede quindi io inizio a scrivere il mio comando proprio questo è copia eccetera eccetera cp xxx spazio y y y punto e virgola ripeto non cercate di capire necessariamente cosa sta facendo in questo momento questo comando ma lo scopio un altro e avere un comando sufficientemente lungo per mostrarvi proprio cosa succede quando passiamo la larghezza del terminale ecco data bene poi vado avanti a scrivere tranquillamente il mio comando ed ecco che ad un certo punto vedete cosa è successo io sto scrivendo il secondo eco questo che è troppo lungo per la larghezza corrente del terminale appena ho fatto lo spazio vedete che fisch mi riporta tutto a capo per guadagnare tutto il posto occupato dal prompt e poter vedere il più possibile il mio comando su una sola riga e qui posso andare avanti appunto a scrivere tranquillamente il mio comando e questo non sto neanche a finirlo comunque vedete che appena accorcio torna su appena allungo il comando lui mi fa guadagnare lo spazio in modo che io per il più possibile possa avere il mio comando su una riga che è più facilmente interpretabile leggibile ecco ed è carino anche questo sono veramente dettagli se vogliamo anche minimi questi di utilizzo ma che poi si apprezzano nell'utilizzo interattivo della shell e questi qui magari vedendoli così mentre ve li sto mostrando nel video dicono vabbè sì ok sembrano scontati ma in realtà poi se ne apprezza la comodità quando si sta usando veramente la shell e si è concentrati a creare il proprio comando e si apprezzano questi dettagli questi confortevoli di utilizzo e questi dettagli confortevoli di utilizzo che nell'insieme fanno in modo che si apprezzi veramente questa questa shell fish ecco l'autocompletamento è un bel capitolo lungo qui nella mia scaletta perché è una parte importante dell'interattività di questa di questa shell e ha diverse sfumature questo autocompletamento vediamole un po allora partiamo dico che è molto efficace perché è vero ecco allora l'autocompletamento con i suggerimenti di comandi o nomi di file cartella viene usando il tabulatore quindi si inizia a scrivere e poi con il tabulatore viene presentato l'elenco di tutti gli elementi con con la stessa radice di cui abbiamo iniziato a scrivere ecco continuando ad usare il tabulatore si può scorrere l'elenco fino all'elemento che interessa oppure si può scorrere lo stesso elenco con le frecce della tastiera su e giù individuato l'elemento che interessa basta premere enter per sceglierlo impostarlo sul prompt e poi ancora enter per eseguirlo rispettivamente aprirlo se si tratta di un file ecco per esempio ecco qui ho parlato senza mostrare la cosa in pratica non è da me quindi passiamo alla pratica se scrivo ls come come comando il classico ls e poi premo il tabulatore un paio di volte vedrete che vengono elencati fish mi elenca tutti i comandi che hanno come radice comune ls quindi tabulatore un tabulatore due volte vedete che mi vengono presentati con evidenziata la radice che io ho digitato ls le due lettere vedete che nel mio sistema ubuntu linux ci sono più di un comando che inizia con ls vedete ls atre ls ls eccetera 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 tutti questi sono comandi validi del sistema linux e vedete però che shell scusate che fish mi aiuta ben più di bash nella scelta del comando che magari ecco che ne so ls init ram fs uno non mi ricordo questo nome molto tecnico e strano due non ho voglia di scriverlo tutto me lo propone lui semplicemente digitando due lettere e un paio di volte premendo il tabulatore vedete molto molto comodo molto potente questa autocompletamento dei comandi suggerimenti dei comandi di fish ma non è finita lì se voi osservate bene il terminale qui sulla sinistra vedete che ls ls atre eccetera sulla sinistra c'è l'elenco dei comandi con la radice in comune nel nome sulla destra vedete qui in un grigetto non so se chiamarlo un po grigio un po smorto c'è addirittura una breve descrizione di cosa fa quel comando quindi doppio vantaggio dell'autocompletamento del suggerimento dei comandi della shell fish uno il comando ma non è sufficiente quindi addirittura mi mostra qui sulla destra appunto un aiuto un suggerimento di cosa faccia quel tal comando ecco l ls puro ls lo sappiamo che elenca il contenuto di cartelle elenca i file nelle cartelle e vedete che qui in effetti ci mostra questo suggerimento list content of directory quindi elenca il contenuto delle cartelle e avanti così per tutti gli altri comandi non so vediamo un altro più facile e forse più conosciuto di altri ls usb cosa fa elenca le periferiche usb connesse in questo momento al vostro pc vedete qui sulla destra in effetti dice list usb devices ovvero elenca appunto gli apparecchi usb connessi al vostro pc e così eccetera eccetera quindi addirittura senza aver bisogno di manuale di andare in rete a cercare semplicemente con i suggerimenti di fish voi avete già un indizio di ciò che avete bisogno con l'aiutino sulla destra eccezionale poi cosa diciamo d'altro che in generale mentre si digita qualcosa un comando un percorso di cartella una funzione eccetera posso già sapere mentre sto digitando appunto se sto scrivendo qualcosa di valido perché il colore diventa blu turchese altrimenti il colore resta rosso se stiamo scrivendo qualcosa che fish in quel momento non riconosce questo cosa vuol dire vediamo un po torno indietro allora il comando ls allora vedete inizio a digitare la l e vedete che la l rossa ecco spero che lo vediate anche se la l non è molto evidente però vedete che rossa la s perché in questo momento l da sola fish non lo riconosce come niente come né nome di file né nome di comando né niente ci aggiungo la s vedete che è diventata un blu eh azzurro blu questo vuol dire che l s per fish è già qualcosa già lui ecco vedete la differenza e quindi quindi se io scrivo proprio qualcosa ecco vedete pi non vuol dire niente aggiungo una t ancora non vuol dire niente aggiungo una niente 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 però p tv che è un editor video che ho installato sul mio sistema ecco che p tv alla fin fine diventa azzurro quando ho completato di scrivere p tv in questo caso perché non c'è niente con meno di lettere con questo nome che voglia dire qualcosa per fish quindi resta rossa poi diventa blu azzurro vuol dire ecco ho beccato qualcosa che il sistema conosce che la fish shell conosce e che è installato o presente nel sistema e voilà anche il comando man quindi ma fin qui non esistono comandi che o nomi di qualcosa che inizia con ma n diventa azzurro perché man è un comando ecco questo anche è uno di quei dettagli un po come l'indentazione il mandare a capo al comando che sono delle finezze così dei dettagliuzzi di utilizzo che però si apprezzano quando si inizia ad essere abituati a usare questa shell ci si abitua anche ad associare il colore a quello che sta succedendo e quindi è una cosa che diventa poi implicita sembra un dettaglio raccontarlo così ma poi è utile capire che cambia colore quando inizia a distinguere le cose ecco molto interessante anche questo dettaglio di utilizzo poi per posizionarsi in una sottocartella basta usare il tasto tabulatore un paio di volte quindi vengono presentate le sottocartelle che si possono filtrare digitando le lettere del nome o selezionare usando ripetutamente il tasto tabulatore o le frecce della tastiera poi si preme enter due volte per accedervi tutto senza usare il comando cd ecco anche qui il principio è un po quello che ho già spiegato però vale anche per le cartelle e le sottocartelle quindi io mi trovo qui in questa cartella e senza digitare nessuna lettera niente posso premere semplicemente il tabulatore e vedete uno o due volte adesso io ho messo due volte tra parentesi perché mi sa che a dipendenza della versione della shell che avete installato magari hanno provveduto a limitare un solo tabulatore necessario oppure due vedete voi e se non succede niente con un digitando una volta tabulatore fatelo un paio di volte sicuramente funzionerà ecco però se poi andate avanti a premere il tabulatore vedete che si scorre l'elenco di tutto ciò che c'è in questa cartella file ma anche eventuali sottocartelle qui non so onestamente se fatemi vedere non ho sottocartelle sono solo file quindi quindi non è un buon esempio questo qua quindi è meglio che mi posiziono magari sulla cartella superiore eccoci qua rifaccio l'esercizio ecco qua e vedete che ci sono sia file sia sottocartelle che si riconoscono dalla slash dalla barra finale le sottocartelle perché vuol dire che da lì si può ancora diciamo entrare ulteriormente e poi accedere ad ulteriori file e cartelle questi sono i file che con il tabulatore si scorre tutto l'elenco di cosa c'è nella mia cartella scrivania per esempio vedete ci sono diverse sottocartelle e diversi file ok il tabulatore non è l'unica opzione come dico qui nel testo e come ho già detto prima ma che mi sono scordato di mostrarvi col col comando ls si può scorrere anche con le frecce della tastiera non solo su e giù ma addirittura anche in qua e in là le quattro frecce della tastiera servono a muoversi in questo elenco suggerito del contenuto della cartella scrivania ecco lo stesso meccanismo vale anche per selezionare i file perché non è che facendo il tabulatore mi presenta solo sottocartelle rispettivamente solo il file ma avete visto che mescola i contenuti suggeriti o file o cartelle ripeto le cartelle si riconoscono dalla barra della slash finale come si fa a entrare per esempio torniamo nella sottocartella precedente dico ok è questa che ho bisogno enter una volta per metterla nel prompt enter un'altra volta e lui entra lì il comando cd non è stato necessario specificarlo perché è implicito cioè la shellfish dice ok vuoi far quello vuoi entrare in quella sottocartella ti faccio entrare anche senza metterci davanti il comando change directory cd e te lo fa lui implicitamente molto bene ecco questo è valido anche per i suggerimenti dei comandi prima ho scordato di dirvelo è o col tabulatore si va avanti si scorre il suggerimento dei comandi o con le frecce su e giù qui non si fa in qua in là perché non è un elenco di file e cartelle ma di comandi che solo verticale però si può andare su e giù è giusto per torniamo un attimo all'esempio di prima con il l'elenco di file e cartelle ecco vedete che il suggerimento avviene per un una parte del contenuto un tot numero di file sottocartelle poi se c'è più roba fish vi dice guarda che ci sono ancora in questo caso due righe ci fossero mille file in questa sottocartella direbbe che ne mancano 990 quello che è ecco vedete quindi un primo tabulatore vi fa vedere solo un'anteprima del contenuto schiacciate ancora il tabulatore comincia a espandere il contenuto non completo e cioè in questo caso mancavano solo due righe l'ho mostrato completo però il terminale arriva fino qua giù ci fossero appunto mille file farebbe vedere a fette il contenuto man mano presenterebbe il contenuto che appare appunto man mano ecco non è finita qui nel senso che vediamo un po se ci riesco ecco vedete che non è finita lì nel senso che se io inizio a farmi suggerire i file e le sottocartelle presenti in una determinata cartella io posso scorrerle così senza nessun filtro ma addirittura se inizio a digitare delle lettere maiuscolo minuscolo non cambia niente indifferente per esempio io voglio limitare il contenuto che mi mostrano i suggerimenti ai file e o le sottocartelle che iniziano con se eccetera eccetera io inizio a digitare s e vedete che inizia a filtrarmi tutto ciò che ha una s nel nome vedete che sono spariti alcuni suggerimenti poi vado avanti e s e vedete es e rimpi es e rimpi se 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 n e sono spariti gli esempi perché in qualsiasi punto del nome di un file di una sottocartella io addirittura posso filtrare i suggerimenti in modo da limitare l'elenco questo naturalmente in questa cartella scrivani ci sono pochi file poche sottocartelle ma ce ne fossero appunto 500 sarebbe utile anche questo ulteriore filtro dei suggerimenti se vedete ricerca e questa è una ricerca libera per testo e non è che il nome deve iniziare per quello che digito ma io posso anche mettere che ne so o di questi qui tutti i file o sottocartelle che contengono o di faccio o di vedete che cello di di introduzione o di dell'estensione del file eccetera eccetera io posso cercare come voglio se il campo di ricerca è vuoto torno ad avere i suggerimenti completi e posso andare avanti col tabulatore rispettivamente con le frecce della tastiera quindi è molto molto potente questa funzionalità di suggerimento di file e cartelle io posso filtrare addirittura i suggerimenti prima di scegliere quello che mi interessa che ne so appunto voglio entrare nella sottocartella come abbiamo detto prima mi posiziono enter enter e lui mi mende mi manda nella sottocartella molto potente avete visto questo diciamo che ci si abitua facilmente a questo comfort poi tornando a bash che non ha queste cose ci si ritrova un po spiazzati lo dico francamente qui ci si abitua facilmente alle belle comodità come in tutte le cose nella vita ecco lo storico dei comandi dunque per ripetere un comando basta digitare una parte di questo comando e fish ci presenta l'ultima esecuzione di quel comando come l'abbiamo usato l'ultima volta non so vediamo un po io inizio digitare man ecco nel video scorso avevo usato l'ultima man un po in varie forme fra le quale richiamare il manuale di man se stesso e vedete che ho iniziato a scrivere ma e lui mi presenta in grigetto il seguito del comando nell'ultima forma con la quale l'ho usato a questo punto a me basta usare la freccia verso destra e non il tabulatore in questo caso la freccia verso destra lui mi accetta il cursore va in fondo al comando me lo fa diventare tutto blu azzurro turchese blu e turchese e io posso eseguirlo come l'ho eseguito l'ultima volta vedete me lo presenta in grigio io posso accettarlo oppure posso modificarlo ovviamente questo è un modo diciamo prima modalità di storico se vogliamo che vale per qualsiasi comando quindi il comando for questo si vede che l'ho usato l'ultima volta in questo modo vedete che mi presenta il comando for chissà quando l'ho fatto in questa modalità come per bash tra l'altro lo scorrimento dello storico dei comandi avviene con le frecce su e giù ecco questo è uguale io vado in su cioè in su con la freccia che punta verso l'alto ecco della tastiera e scorro lo storico vedete anche gli ultimi comandi che abbiamo fatto anche durante questo video oppure quelli del video precedente e qui vado 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 indietro vedete anche il mio for che abbiamo usato ieri avanti 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 vedete tutto lo storico per quanto può contenere la storia per quanto è previsto che contenga la storia anche migliaia di comandi e tutto lo storico vado in avanti con la freccia rispettivamente con la freccia che punta verso di voi della tastiera si torna avanti verso la storia più recente fino a tornare al prompt perché non ci sono più comandi ecco questo è già come in bash normalissimo e qui c'è qualcosa tuttavia di più o di diverso rispetto al a bash perché anche bash alla ricerca specifica nello storico dei comandi però io trovo che questa di fish sia particolarmente pratica e potente ovvero una ricerca libera di testo libera esattamente come questa di ricerca libera tra i suggerimenti di cartelle file questo search che appare subito sotto il prompt esattamente come questo anche per lo storico c'è la ricerca libera quindi se io ho bisogno di cercare come avevo usato quel tal comando in quel momento che ne so il comando for ecco lui mi presenta io digito for poi scorro con le frecce su e giù e lui mi presenta tutti i for attenzione tutti i for ma in qualsiasi punto della stringa che compone è un comando e quindi non necessariamente for deve essere un comando del ciclo for di un loop for ma vedete per esempio in questo comando che non c'entra niente con il comando for però c'è plat for vede evidenziata la stringa che mi ha trovato quindi tutti i comandi che hanno in qualche punto della loro composizione la stringa di tre lettere for vedete qualsiasi nella mia storia anche qui chissà quanto tempo fa ho usato questi comandi vedete in qualsiasi punto c'è una stringa for vedete qui evidenziata lui me lo trova nello storico e qui può essere anche molto indietro nel tempo eccezionale questa ricerca libera in qualsiasi punto del testo di un comando vedete e viene evidenziata la stringa che sto cercando ma non è finita lì perché se adesso io vado avanti a digitare quindi dopo for dopo la r di for io scrivo m scusate non qua è for vediamo un po se funziona come penso io for no no in questo caso no con i comandi composti no for io avevo in mente che si potesse no ok probabilmente questa è un'altra di quelle cose che sono cambiate fra le versioni di fish cosa succedeva prima io scrivevo un principio di ricerca scorrevo lo storico poi andavo avanti a digitare altre lettere e venivo ulteriormente limitata alla storia in questo caso vedo che in realtà se continuo a digitare lui mi modifica il comando corrente che che mi sta presentando non è più così quindi niente come non detto for ovviamente più lettere scrivo più è come si dice più la ricerca si stringe ovviamente ecco se invece di for metto for man comincia a parirmi solo questo comando poi su questo poi questo e vengono esclusi altri ovviamente e qui proprio ricerca libera di testo questo è trovo che sia eccezionale per trovare puntualmente nello storico qualcosa che magari non mi ricordo neanche l'inizio la fine del comando mi ricordo solo un qualcosa posso iniziare a cercare con questa ricerca libera poi quando è visualizzato un comando ecco vediamo un po' che faccio di nuovo una ricerca for ecco per esempio mi posiziono qua nel nostro solito for che abbiamo già usato per posizionarsi all'inizio la fine di un comando usare tasti home ed end è semplicemente quella tastiera un po' come se ci si trova in un editor di testo e in effetti in questo momento è attivo l'editor integrato di fish perché per garantire proprio un'interattività di qualità fish mette a disposizione un suo editor integrato che non è non ha tutte le funzionalità di un editor vero e proprio però alcune cose le ha e si comportano come un normale editor quindi voglio posizionarmi in questo comando in cima all'inizio proprio la f di for uso il tasto home quindi premo il tasto home e mi si posiziona all'inizio della riga scusate inizio della riga tasto end va alla fine della riga di un comando tasto niente tasto cosa dico control più freccia passa da una parola all'altra che compone il comando ecco questo si fa anche che ne so in write in word in qualsiasi editor di testo vedete che io col contro le freccia vado avanti freccia verso sinistra torno indietro col contro il passo di parola in parola mentre appunto l'home e l'end vanno all'inizio e alla fine di ogni riga del comando fosse un comando su una riga sola andrebbe direttamente all'inizio e alla fine del comando di tutto il comando ecco questo è interessante molto ecco anche qui appunto per muoversi in un comando che magari particolarmente complesso vediamo un po se ecco magari questo che veramente un po lungo io posso andare con le frecce su e giù della tastiera muormi fra le diverse righe del comando è vedete posso muovermi tranquillamente frecce qua e la su e giù di carattere in carattere col contro vado di parola in parola colom vado in cima in fondo di una singola riga se questa va a capo di una singola riga va a capo oppure col contro eccetera le frecce su e giù proprio come fossimo in un editor contro ci abbandono il comando e torno al prompt di fish ecco qui sono tutte cose che magari si danno per scontate ma insomma sappiate che nell'interattività di fish o a disposizione un un editor discreto insomma che ha le sue funzionalità di base poi suggerimenti delle opzioni dei comandi ecco questo è un punto che abbiamo già accennato anticipato nella parte 1 di questo corso grazie al comando fish update completion che è quello che è quel comando di fish che permette di creare un archivio delle opzioni dei comandi linux installati sul vostro sistema e permette a fish di dare i suggerimenti delle opzioni dei comandi non solo dei comandi ecco quello che abbiamo visto prima all'inizio di questo capitolone sui suggerimenti di fish interattivi abbiamo visto il comando ls con un paio di tabulazioni ci presenta tutti i comandi con ls è questo quello che abbiamo visto all'inizio ma non è tutto se io metto un trattino ecco non qui naturalmente ma un trattino significa che io il comando ls lo voglio eseguire con uno o più opzioni e sappiamo che i comandi da terminale hanno spesso molte alcuni poche alcuni molte opzioni anche estese per influire sul funzionamento del singolo comando ecco anche ls non fa eccezione quindi io voglio mettere un'opzione al comando ls però non mi ricordo quale sia in fish è molto semplice scrivo solo il trattino tabulatore e vedete che ls ha parecchie opzioni come facciamo saperlo vedete che ce ne presenta 4 5 come anteprima di suggerimento e addirittura ci dice che ce ne sono ancora 51 di opzioni quindi il comando ls sono di quelli belli corposi 51 opzioni ci sono oltre a queste col tabulatore è il meccanismo è sempre quello possiamo ecco qui c'è espanso ulteriormente l'elenco dei dei comandi vedete che ne restano ancora di 55 in tutto qui ne sono elencati 22 quindi meno della metà però con il tabulatore come abbiamo già visto si può passare a uno a uno le varie opzioni su e giù con le frecce è la stessa cosa e sopra intanto nel prompt ecco questo mare non l'ho evidenziato a sufficienza nel prompt ovviamente riporta l'opzione che io ho evidenziato in questo momento pronta per essere accettata e quindi vedete che non so help ls help poi si fa enter accetti l'help e fai enter per eseguire il comando con questa opzione non ti basta torni con il trattino e ricominci oppure escape per tornare indietro faccio due trattini perché nei comandi linux immagino che avete notato che ci sono le opzioni con un trattino solo e spesso e volentieri le opzioni corrispondenti con un nome più esteso con due trattini che si indica con due trattini fanno la stessa cosa ma una è stringata di solito con una lettera sola e l'altra è più estesa ecco quindi se io metto due trattini invece di uno e faccio il tabulatore mi presenta le stesse opzioni ma solo quelle con i due trattini non più accompagnate da quelle con un trattino solo e una lettera comunque vedete ecco io scorro semplicemente con le frecce su e giù o col tabulatore è uguale scorro tutta la possibilità che il comando lsa anche in questo caso vedete che non solo il comando di fish fish update completion ci ha creato questo archivio di opzioni dei comandi a nostra disposizione ma addirittura pone qui sulla destra un po come per i comandi in quanto tali il suggerimento di cosa fa quella tal opzione di come influisce sul comando quella tal opzione per esempio questa vediamo un po autor che non ho mai usato qui sulla destra mi trovo scritto print autor quindi immagino che stampi il nome dell'autore del comando vediamo se è vero autor eseguiamo no non fa non fa quello quindi vuol dire che non è quello ci ho provato sembrava che fosse quello è il nome dell'autore ma strano autore print autor ma chi lo sa magari deve essere accompagnata con altre opzioni ecco io il comando ls lo uso quasi sempre solo ls ma vedete quante opzioni ha questo comando finora non l'ho mai sfruttato più di tanto con tutte le sue opzioni magari autor è un'opzione che va accompagnata con qualcos'altro